Cari amici di Emporio G&G, mi trovo all'ingresso del centro Leonardo a Fiumicino dove tra qualche ora chiuderà definitivamente il supermercato Oshan ieri mattina preso d'assalto fin dalle prime ore, ormai si è praticamente svuotato di tutto perché le persone non si sono lasciate sfuggire questa occasione di una spesa a metà prezzo, a 50% di sconto, in quelle che sono le ultime ore di attività di questo supermercato qui al centro Leonardo, Parco Leonardo Fiumicino a giugno dovrebbe subentrare, anzi c'è la certezza di un nuovo supermercato che subentrerà qui nei locali che saranno rinnovati nei prossimi mesi